Vieni a tutti voi amici che ci seguite da casa e benvenuti al match più atteso dai tifosi romani di entrambi i tuoi. Tutto sembra fermarsi nella capitale mentre i radio e i giornali non parlano d'altro. Pochi altri derby e non solo nel nostro paese hanno la capacità di diventare LA partita. La cittadina di Roma è molto più di una partita, è lo scontro tra due identità fortissime. Luca Tunes è stato più volte protagonista, che partita è il derby? Beh Fabio è una sfida che fa storia a sé, che riguarda tutti. Non ha dato i frutti sperati. Se ne va! Palla dentro di Kluiver, pronto al tic... Grande parata di Stracoscia! Grande parata dell'estremo difensore. Palla dentro di Kluivert. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Sicuro qui, la mette sulla sinistra. Cristante. Kluivert! Ha sprecato malamente, è un passaggio davvero immobile. Mkhitaryan e conquista la palla. Immobile! E c'è il gol della Lazio! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Palo e gol, non c'era molto che il portiere potesse fare su questo tiro. Ottimo passaggio, Devin... Ecco il tiro! E va a colpire di testa! Luis Alberto! Il portiere si oppone. La verticalizzazione. Cieco! Smalling! Può capire, deve tirare! E c'è la rete! La Roma reprizza la situazione. Situazioni come queste. Non si è scoperto del pallone più grande della vita. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi. Con il risultato che abbiamo visto. Quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendi... Qui c'è il chega il tiro! Cieco! Va al tiro! Va più in profondità. Che botta! Il portiere raccoglie il lancio lungo. Ottimo pallone in profondità. Occhio al tiro! Eh, ma doveva metterla dentro qui. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa. E ha proposto comunque diverse occasioni. È una parte del città!